Il post che abbiamo appena letto di Birindelli mi ha spinto quindi a scrivere questi email a questi avvocati che conosco. Leggiamo i passaggi principali dell'email. Di solito le persone tendono a giustificare leggi come quella della casa piccola perché proteggono il cittadino, evitando situazioni pericolose o dannose come quella di vivere in una casa troppo stretta, che potrebbe anche rendere precarie per esempio le condizioni igienico-sanitarie e mettere a rischio la salute delle persone che vi abitano. Ora, a parte il fatto che questa legge, come spesso accade, non riesce davvero a realizzare con successo la situazione desiderata dal legislatore costruttivista, perché non ci riesce? Perché una casa potrebbe avere i metri quadrati sufficienti in termini di legge ma essere abitata per esempio da troppe persone. Quindi il problema si ripresenterebbe lo stesso, il problema del sovraffollamento. Quindi questa piccola osservazione marginale è utile a mostrare come il positivismo giuridico nel suo incessante tentativo di fare ingegneria sociale, in questo senso legislatore costruttivista, approva dei provvedimenti spesso artificiali e artificiosi, conduce a leggi incoerenti e contraddittorie oppure di cui è impossibile verificare il rispetto. Però questa è soltanto una annotazione a margine. Il punto centrale invece della mia riflessione è che il positivismo giuridico è incoerente. È incoerente perché se partiamo dal presupposto che lo Stato ha il dovere di proteggere la salute delle persone, allora dovremmo pretendere che il governo approvi delle leggi che proibiscano le persone di fumare, in quanto il fumo causa malattie molto gravi ed è molto più pericoloso che vivere in una casa piccola. Non solo, ma la legge dovrebbe evitare il fumo anche nelle case private, dove i genitori potrebbero avvelenare i figli o altre persone con il fumo passivo. Tra l'altro un'altra piccola annotazione a margine è questa, cioè quella della contraddizione normativa. Ha più forza la legge che tutela la salute della persona, un'eventuale legge contro il fumo nelle case private, oppure l'altra legge che difende la privacy? Comunque torniamo al punto principale, l'incoerenza del positivismo giuridico. Se fossimo coerenti, in base al principio della tutela della salute degli individui, dovremmo auspicare l'avvento di uno Stato di polizia che controlla le nostre abitudini, proibisce e punisce quelle insalubri, fino ad obbligarci per leggi a fare attività fisica, per esempio. Tutto questo è chiaramente assurdo, nessuno vorrebbe vivere in una tale realtà distopica, dove l'autorità vieta, obbliga proibisce, punisce, impone. Invece noi restiamo incoerenti, la maggior parte delle persone si accontenta del fatto che certi comportamenti ci vengano vietati dall'autorità politica, oppure altri imposti, altri ancora permessi o lasciati facoltativi, secondo le decisioni arbitrarie, questa è una parola importante, arbitrarie dell'autorità politica. Infatti, Giovanni Birindelli nei suoi bellissimi libri, tra cui questo, La sovranità della legge, di cui parlerò meglio più avanti, Birindelli definisce il positivismo giuridico lo strumento arbitrario di potere con cui l'autorità politica emana provvedimenti particolari. Recentemente abbiamo avuto un paio di esempi di questi provvedimenti particolari, su cui ha ironizzato anche Maurizio Crozza nei suoi spettacoli in televisione. Quali sono questi provvedimenti? Che sono stati inseriti dal governo nel decreto legge per il ponte di Genova. Il primo è la ricostruzione con soldi pubblici degli edifici abusivi a Ischia e l'altro è l'innalzamento dei livelli di tolleranza relativi all'inquinamento da idrocarburi sui terreni agricoli. Ma questi sono soltanto due esempi recenti, tra innumerevoli altri anche peggiori, che vengono approvati da tutti i governi democratici, come dice Birindelli, in nome di chissà quale maggioranza e chissà quale volontà popolare. Qual è il punto di vista delle persone, della stragrande maggioranza delle persone e anche dello stesso Crozza rispetto a questi provvedimenti attuati dai governi? Che si tratta di provvedimenti scandalosi, immorali, irresponsabili. Tuttavia Crozza e le persone si limitano a condannare i provvedimenti specifici in sé, ma non si rendono conto che la cosa più sbagliata e immorale è l'idea filosofica stratta di legge che permette di rendere legali tali provvedimenti. Cioè la cosa più sbagliata è l'origine di quei provvedimenti, cioè il positivismo giuridico. Birindelli spiega che le prime vittime inconsapevoli di questo sistema perverso, cioè il sistema del positivismo giuridico, sono proprio le persone per bene perché credono di rispettare la legge mentre invece stanno rispettando soltanto lo strumento di potere coercitivo arbitrario dell'autorità politica. Rileggiamo infatti cosa Birindelli definisce il positivismo giuridico, lo strumento arbitrario di potere con cui l'autorità politica emana provvedimenti particolari. Quindi le persone per bene credono che la legge sia il positivismo giuridico, perché così funziona la moderna società democratica. La legge è la legge fiat, cioè i provvedimenti particolari e arbitrari con cui i governanti possono rendere legge tutto e il contrario di tutto, al punto che al giorno d'oggi sarebbe ancora legalmente, cioè democraticamente possibile, attraverso regolare processo interdemocratico, addirittura approvare nuove leggi razziali, in quanto non è cambiata l'idea filosofica stratta di legge, il positivismo giuridico, con cui viene esercitato il potere politico. Per questo Birindelli definisce democrazie totalitarie i sistemi giuridici in cui viviamo, perché sono caratterizzati dalla mancanza di un limite al potere dell'autorità politica. Di solito le persone, quando si fanno notare queste contraddizioni e queste realtà, rispondono che non si può fare diversamente. I provvedimenti dell'autorità politica sono inevitabilmente particolari e arbitrari, ma con le elezioni il popolo può esprimere il suo grado di apprezzamento verso le decisioni prese dai suoi rappresentanti. Questo, infatti, è uno dei miti più diffusi a sostegno del culto della democrazia. Ma non è affatto vero che non si può fare diversamente. Infatti esiste un'altra idea filosofica stratta di legge che non è arbitraria e che Birindelli chiama la legge con la L maiuscola. È il principio di non-aggressione, il principio astratto, la regola generale negativa di comportamento individuale, valida per tutti allo stesso modo. La parola negativa sta a indicare che il principio di non-aggressione dice soltanto ciò che non si può fare, per non limitare la libertà degli altri, per non aggredire le altre persone e le loro proprietà. Questa parola, regola generale negativa, è contrapposta al positivismo giuridico, che invece si tratta di interventi normativi positivi, positivi nel senso che cercano di fare ingegneria sociale, quindi sono azioni costruttiviste che cercano di intervenire, pianificare, modificare sia le regole di comportamento sociale che le regole economiche. Invece il principio di non-aggressione, la legge con la L maiuscola, è semplicemente il divieto di aggredire o minacciare gli altri individui e i loro beni di proprietà. Il principio di non-aggressione non è arbitrario, infatti è il limite non arbitrario a qualsiasi potere coercitivo, anche e soprattutto fa da limite alla coercizione dello Stato. Un'altra osservazione che spesso viene fatta è che senza lo Stato la società degenererebbe nel caos, nella violenza, nella prevaricazione e che non sarebbe possibile far rispettare il principio di non-aggressione. Invece non è così, in quanto un sistema di agenzie e tribunali privati in concorrenza di libero mercato, in un libero mercato dell'amministrazione e della giustizia e soprattutto della legislazione, assolverebbe egregiamente a tale compito, originando un processo di ordine spontaneo, detto anche anarchia ordinata, molto più efficiente di quello garantito dallo Stato. A questo punto molti sostengono che si tratta di un qualcosa di utopistico, per esempio un sistema di agenzie e tribunali private in concorrenza in un libero mercato della giustizia e della legislazione sembra una cosa irrealizzabile, ma in realtà non è così irrealizzabile. Come lo stesso Birindelli in diversi suoi articoli ha ben spiegato, è probabile che si arrivi spontaneamente a questo libero mercato un po' di tutti i servizi che oggi lo Stato offre in monopolio. Infatti è molto plausibile che in un futuro più o meno lontano le attuali socialdemocrazie, sempre più devastate dai loro mali intrinseci ed inevitabili e quindi indirezzate verso il decline economico, causato dalla sistematica violazione delle leggi dell'economia di mercato, con conseguente incremento delle azioni coercitive e del grado sociale, dei valori morali. Questi sono tutti problemi ben spiegati anche nel libro che abbiamo già discusso, Oltre la democrazia. Quindi dicevamo ci sono evidenze che in un futuro più o meno lontano le attuali socialdemocrazie saranno destinate a dissolversi sotto le spinte separatiste e indipendentiste. Per esempio perché le regioni più ricche e produttive non vorranno più sovvenzionare le altre più arretrate. Questo in un periodo di crisi diventa un problema importante e quindi gli Stati nazionali si frammenteranno probabilmente in territori più piccoli, autogovernati, alcune città-Stato, in concorrenza istituzionale tra loro, dove il potere politico risulterà meno concentrato e maggiormente disperso, distribuito e più vicino alla base sociale. Queste comunità indipendenti saranno più simili alle società libertarie che ai moderni Stati nazionali e che c'entra questo con il libero mercato dei servizi? C'entra perché con la crisi degli Stati nazionali e molto probabilmente, quasi sicuramente, sorgeranno spontaneamente nel mercato tutta una serie di agenzie e di attori economici che proporranno, forniranno quei servizi che gli Stati non saranno più in grado di erogare per colpa della mancanza di soldi, di finanziamenti, dell'inefficienza, della grave crisi economica che sembra inevitabile nel lungo periodo. Quindi possiamo aspettarci in un futuro più o meno lontano dei servizi anche di amministrazione, della giustizia e di legislazione che inizialmente affiancano i servizi oggi offerti, imposti dallo Stato in condizioni di monopolio e possiamo immaginare che questi servizi saranno più efficienti e più soddisfacenti di quelli di uno Stato che invece sta andando sempre più in declino. Quindi piano piano le persone si rivolgeranno sempre più a questi servizi di libero mercato, un po' in tutti i settori, rispetto ai servizi monopolistici dello Stato. Così anche l'amministrazione della giustizia e la legislazione possono diventare un qualcosa che viene offerto privatamente. Concludo dicendo che un fenomeno simile già sta avvenendo nel campo del denaro. Infatti il denaro dello Stato, il denaro Fiat, a corso legale e forzoso, sta attraversando un periodo di crisi anche perché subisce una continua svalutazione e poi perché è aggredibile dalle istituzioni statali attraverso patrimoniali oppure prelievi forzosi. Perciò al giorno d'oggi sempre più persone si stanno rivolgendo alle criptovalute come per esempio Bitcoin. Ora le criptovalute non sono nate per sostituire il denaro Fiat dello Stato ma semplicemente per affiancarlo. Però essendo più efficienti, non aggredibili e permettendo il totale controllo e la piena libertà di utilizzo, a differenza del denaro Fiat, finiranno per sostituirlo nel lungo periodo. Quindi avremo un denaro di libero mercato che va prima ad affiancare e poi sostituire il denaro monopolizzato dallo Stato o dalla BCE. Un processo simile potrebbe avvenire attraverso un'offerta privata di mercato dell'amministrazione della giustizia e della legislazione.